Il video seminario di Alessandra Pizzi, Numeri e Destino, è ora disponibile al link che si trova sotto al video nell'info box o nel nostro shopping online www.cavuresoterica.it alla voce video seminari. Con questa tabella sottomano, composta da 26 lettere, appunto perché ricomprende quelle che sono diventate di uso comune nel nostro linguaggio, prendiamo un nome, in spirito gli chiediamo il permesso a Riccardo Cocciante e tutti quanti cominciamo dallo scrivere su un foglio Riccardo Cocciante. Ok, un altro passaggio. Quali nomi prendere? Tenete il codice fiscale come riferimento, cioè talvolta ci sono dei nomi doppi, talvolta c'è la virgola, se c'è la virgola non vengono utilizzati nel codice fiscale, quindi prendiamo come riferimento il nome e il cognome proprio come risulta nei documenti. In questo caso Riccardo Cocciante ha un secondo nome, un secondo nome che gli risulta anche nei documenti. Teniamo questo e facciamo la prova su questo perché questo è comunque quello che lui ha scelto per presentarsi al mondo. Ok, quindi quando qualcuno, se qualcuno di voi ha un nome doppio e lo utilizza, ne utilizza una parte soltanto, lo invito a fare due mappe e verificare togliendo una parte del nome che cosa succede. Cioè la Maria Chiara, che si fa chiamare solo Chiara o solo Maria, rinuncia a una parte della sua energia, proprio perché noi adesso con quella tabella andiamo a attribuire a ogni lettera un numero. Quindi se io ne tolgo una parte di quello che è il mio nome, che è quello con cui l'universo mi riconosce, io sto sottraendo una parte dell'energia. Naturalmente avrò anche un totale differente, ma ve lo spiego meglio dopo quando abbiamo già tutti i totali su cui lavorare. Per agevolarci nel passaggio successivo, vi chiedo di dividere nell'attribuzione delle lettere con i numeri le vocali dalle consonanti e ci abitueremo a mettere le vocali nella parte superiore del nome e del cognome e le consonanti nella parte di sotto, perché poi ci daranno dei significati diversi. Quindi alla I corrisponde il 9, alla A corrisponde l'1, alla O corrisponde il 6 e quindi ne abbiamo un altro nel cognome, un altro 9 con la I, 1 alla A e 5 alla E. Sospetto che lo... Vi consiglio un'altra cosa, procuratevi una calcolatrice, perché delle volte basta un banale esempio di calcolo di somma che ci troviamo che poi naturalmente abbiamo dei risultati sbagliati, quindi insomma delle volte è molto meglio verificarlo e controllarlo. Prima di fare i totali mettiamo anche le consonanti e le mettiamo sotto. Quindi R9, 3, 3 alla C, 9 di nuovo, la D ha una corrispondenza 4 e nel cognome 3, 3, 3, 3, la N 5 e la T è 2. Vi lascio completare la traslitterazione. Quindi si tratta di vedere se sono vocali o se sono consonanti e di scrivere esattamente sotto qual è la corrispondenza. Andiamo, andiamo avanti, l'avete, vedo, qualcuno sta ancora lavorando, qualcuno sta ancora scrivendo. Allora, anche se a noi interessano entrambi nome e cognome, perché quella è la nostra colonna sonora che poi uniremo alla data di nascita, ma inizialmente questo è quello che ci interessa, il cognome porta con sé una storia familiare, perché c'è ereditarietà nel cognome che portiamo con noi. Per questo dividiamo nome e cognome, poi li sommiamo insieme, perché l'universo è quello che ci riconosce con il nostro nome, quello con cui è anche bello ogni tanto chiamarci, perché arriva direttamente all'anima e la risveglia. Questa è la ragione per cui li dividiamo e il totale del nome ci parla proprio di noi, del nostro modo di porci, di qualcosa che ci rappresenta in una maniera particolarmente significativa. Quindi il totale 9 più 1 più 6 e quindi i totali li facciamo del nome, del cognome e poi tutti e due insieme è 16, 9 più 1 più 6. Poi abbiamo il totale delle vocali di cocciante con un 5 che fa 21. No, è sempre 9, 1, 6 ma invertiti. Quindi 21 e quindi abituiamoci a mettere il totale in riduzione. Ve lo metto tra parentesi perché poi adesso andando a fare la somma per trovare il totale di tutte le vocali del nome e cognome, noi dovremo utilizzare i numeri prima della riduzione. quindi mettere a che cosa si arriva sommandoli tra loro ci serve perché naturalmente dobbiamo arrivare all'unità. In questa fase noi ragioniamo per l'unità, poi impareremo a comprendere che cosa significa la derivazione da un numero piuttosto che da un altro. Ma adesso il nostro obiettivo è arrivare all'unità. Ma proprio perché cambia la provenienza da alcuni numeri o da altri è importante che fin dai primi passi noi ci abituiamo a fare i calcoli con questo metodo perché se no poi ce li perdiamo. E vi faccio vedere subito in che modo. Se noi adesso andiamo a sommare il 16 più 21 fa 37 quindi qua ve lo metto 16 più 21 è il conto giusto da fare che fa 37 e quindi di nuovo 3 più 7 10 ancora un'altra riduzione teosofica 1 il totale delle vocali è 1 naturalmente noi otterremmo 1 anche se facessimo 7 più 3 ma ci perderemmo quella parte che sarà molto importante andando avanti per chi vorrà andare avanti in questo studio è importante riconoscere che lì c'è un 37 come numero principale poi lo andiamo a riprendere però questi sono i punti che dobbiamo prendere proprio come tappe che diventano spontanee poi facciamo la somma invece delle consonanti quindi 9 più 3 più 3 più 9 più 4 ho sbagliato 9 più 3 più 3 più 9 più 4 28 ancora 10 ancora 1 per il discorso che facevamo prima non è la stessa cosa un 1 che comunque associato a quel guerriero a quell'innovatore con una personalità forte determinato eccetera con la sua spada sempre in pugno spesso sono persone a cui la sfida piace molto ma la viene da 3 e 7 vi ricordate che abbiamo fatto il discorso del respiro espansione e contrazione qui viene da due numeri pari la viene da due numeri dispari allora ci abitueremo a riconoscere che i numeri pari e i numeri dispari hanno delle caratteristiche dominanti che sono i numeri dispari più di espansione azione maschile di spirito e i numeri pari più femminili più di contrazione più di materia più di concretezza uno più di astrazione l'altro più di concretezza è chiaro che cominciamo a differenziare quel contenuto che lo stesso archetipo avrà archetipo è quello è un guerriero ma il contenuto dipenderà anche dai costituenti in questa fase accontentiamoci di comprendere ok qui c'è un uno qui c'è un guerriero qui c'è una persona determinata innovatrice eccetera ma se non facciamo i calcoli in questo modo poi ci perdiamo la possibilità di lettura di tutti quegli altri contenuti che veramente sono meravigliosi e molto rivelatori poi abbiamo 3 più 3 più 3 più 5 più 2 16 di nuovo e 7 allora non mi ricordavo più tutte queste eccezioni ma benissimo mi piace molto che saltino fuori vi do un'anticipazione noi abbiamo detto guardiamo da 1 a 9 e lo 0 ci sono taluni numeri che vengono chiamati speciali che sono quelli doppi e quindi per numero doppio si intende 11 22 33 44 e così via poi ci sono altri numeri che vengono chiamati carmici che sono il 13 il 14 il 16 e il 19 ve li metto qua su in alto per non confondere con la sua mappa la sua mappa 13 14 16 e 19 di solito mettiamo una sottolineatura in modo tale da riconoscere che ci come mi è venuto spontaneo fare qua per riconoscere che c'è un aspetto in particolare che dovremo tenere in considerazione vi consiglio un'altra cosa usate i colori più che potete intanto nella mappa che abbiamo visto prima e che abbiamo usato per la traslitterazione c'è una successione di colori per chi conosce la relazione tra i chakra i centri di energia principali lungo la nostra colonna la prima parte della corrispondenza da 1 a 7 è quella dei chakra quindi rosso all'1 arancione al 2 giallo al 3 4 il verde il 5 io lo sento più turchese più che azzurro è proprio un turchese il blu o l'indaco però nei colori che si hanno nell'astuccio normalmente si fa un po' fatica a trovare quello il viola al 7 all'8 è associato il magenta e al 9 il color oro allora se andiamo a utilizzare anche questi colori sicuramente abbiamo una una corrispondenza immediata possiamo possiamo fare così possiamo aggiungerlo qua che avevamo già la successione in modo tale che rimanga anche anche a voi rosso arancione giallo verde turchese turchese blu viola magenta e color oro potreste trovare delle attribuzioni di colore differente così come taluni significati anche un po' differenti questo purtroppo accade e qua torniamo in quell'ultima premessa della ricognizione iniziale quando dicevo sperimentale quando c'è qualcosa che non ci convince chiediamo all'universo facciamo la domanda lasciamo la domanda e l'universo risponde sempre così stiamo nel nostro sentire ci abituiamo a stare nel nostro sentire riconoscere come dentro risponde il riconoscimento di ciò che ci torna come giusto come corretto come un grande sì ok anche perché il il colore ci abitua a stimolare quella parte creativa emisfero destro parte sinistra che è quello che solitamente è un pochino meno usato è un po' meno allenato rispetto rispetto l'altra parte quindi il colore e il foglio orientato nel senso della della lunghezza quando vedrete il template che che riceverete è il lato lungo del rettangolo alla base quindi anche questa forma stimola la parte creativa pertanto c'è rimasto da fare la somma 28 più 16 e troviamo un altro numero speciale perché il totale se avete fatto bene i conti 28 più 16 fa 44 ecco perché dicevo se noi non facciamo i conti in questo modo non ci perdiamo dei significati particolari perché in quel caso se noi avessimo fatto 7 più 1 8 vero che viene 8 ma ci saremmo persi il fatto che viene da 44 quindi questi sono proprio i passi base a questo punto noi facciamo altre due somme una è quella del 16 più 28 che nasce dal totale di Riccardo cioè 16 è il totale delle vocali di Riccardo e 28 è il totale delle consonanti di Riccardo quindi qui noi abbiamo un 44 8 l'energia di Riccardo ha questa caratterizzazione qua che troviamo anche nel totale delle consonanti quindi queste per esempio sono quelle cose quando dicevo usiamo i colori sono quelle cose che mentre facciamo la mappa e stiamo ancora usando la parte logica e razionale cioè adesso noi stiamo utilizzando quella per poter fare i calcoli nel modo giusto in preparazione di poter andare nella dimensione creativa e interpretativa con i colori possiamo cominciare a sottolineare e a renderci conto per esempio che guarda caso c'è questo ritornello questo ritornello del 16 che è qui e che troviamo anche qua questo ritornello del 44 qui che troviamo anche qua quando accadono queste cose è sempre un rafforzativo di quella energia in quel tema che stiamo esaminando vuol dire quella energia è importante osservala e quindi prima di arrivare ad avere tutto quanto questo cielo queste costellazioni definite andiamo segnandocele con i nostri colori con degli evidenziatori ok qua c'è questa particolarità da tenere in considerazione poi abbiamo un altro totale che è da fare questo qui il totale delle vocali e delle consonanti di cocciante quindi andremo a prendere il 21 più il 16 e troviamo nel nostro ritornello e guarda caso di un cantante abbiamo un altro 37 perché è lo stesso identico totale che avevamo qua 21 più 16 37 che è 10 e che è 1 lasciamo sempre tra parentesi per non trarre in inganno i totali magari qua vi metto tra parentesi che totale abbiamo fatto per arrivare a 44 il totale è 16 più 28 per arrivare a 37 il totale è stato la somma 21 più 16 a questo punto non ci resta che da fare l'ultima delle somme che è 44 più 37 e che è 81 e quindi 9 in questo in questo caso quel ritornello che vi ho nominato lo troviamo nel totale delle vocali lo troviamo nel totale delle consonanti e quindi è la stessa identica somma non è sempre così adesso quando poi dopo pranzo farete il lavoro sulla vostra mappa sul vostro nome sul vostro cognome vedete che difficilmente si genera questo incastro e allora diventa proprio la prova del 9 cioè andare a vedere se il totale 37 più 44 è lo stesso che avete facendo il totale del nome il totale del cognome perché se abbiamo sbagliato i conti o se abbiamo sbagliato l'attribuzione quel totale lì non è lo stesso quindi è un po' il risultato che ci dice sì i conti sono giusti perché abbiamo diviso le vocali dalle consonanti la vocale è il totale del numero chiamato dell'anima o desideri del cuore quella parte lì ci dice la caratteristica che noi portiamo in manifestazione nella vita privata nella relazione con gli altri qualche cosa che attiene alla nostra sfera più intima più personale mentre la parte delle consonanti infatti io lì di solito metto un cuoricino a intendere questo questo è il numero dell'anima con il totale delle vocali vocali mentre il totale delle consonanti è chiamato numero della persona o anche di impressione perché è la parte che noi di solito manifestiamo nella relazione con le altre persone il nostro biglietto da visita quello che gli altri ricevono la qualità che gli altri ricevono e al contempo le caratteristiche che di solito a noi fa piacere che gli altri vedano quindi questo dove a me piace mettere una faccina essendo appunto quello di impressione si chiama persona poi nella dispensa trovate tutto ed è il totale delle consonanti in contraltare ai desideri del cuore c'è quello che viene chiamato numero di impressione espressione l'impressione è il ponte quindi i desideri del cuore l'anima le vocali impressione persona totale delle consonanti il numero dell'io o di espressione è quello che parla di noi nel mondo della materia delle nostre caratteristiche nella vita quotidiana ed è il numero che spesso è quello più immediato da riconoscere nelle persone viene definito i mezzi a disposizione per realizzare il proprio cammino di vita quindi questo è un archetipo che spesso va tenuto in considerazione nella professione perché viene manifestato nella vita di tutti i giorni nella quotidianità si chiama io o espressione e vocali più consonanti tutti quanti i numeri ed è quello più vicino come vi dicevo al nostro manifestarci nel mondo la personalità manifestata nel mondo se io ho un appuntamento con una persona che ha tanti uno e quindi l'abbiamo già un po' caratterizzato il decisionista non 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 posso prevaricare non posso sostituirmi è una persona sicura autonoma decisa è lui che fa la rotta è l'uno è lui che parte quindi tal uno è naturalmente dotato di qualità empatiche proprie per cui magari non ha bisogno di utilizzare questo strumento ma per chi vuole quantomeno avere una conferma rispetto a quello che già gli torna ecco che in questo modo io posso vedere ok a tanti uno questa persona e degli otto per esempio l'otto come abbiamo qua l'otto che viene dall'otto che viene dal 44 nella persona l'otto come associazione di archetipo è il sovrano colui che è nel suo potere e anzi vi ricordate che avevamo detto tende a essere lui il capo che organizza anche l'uno è leader e tende a essere un capo la differenza è che l'uno abbiamo detto lavora bene da solo preferisce anzi lavorare bene da solo perché è un po' impaziente quindi ora che ti spiega allora devi fare questo poi quello poi quell'altro se lo fa lui e ha già fatto ben prima la cosa quindi la differenza di questo leader di questo essere leader vabbè c'è la successione che ci sta in mezzo per arrivare a otto e l'otto numero di prevalenza femminile quindi di prevalenza associato alla materia e la concretezza va coordinando anche il lavoro delle altre persone numero della giustizia che abbiamo detto della giustizia e del giudizio quindi rigore di solito a standard di livello altesi altissimi da sé e dalle altre persone molto severo tende ad essere molto rigido quindi presentarsi puntuali assolutamente quel giorno lì e non sostituirsi perché lui è il sovrano lui è colui che decide e si aspetta risposte si aspetta precisione si aspetta puntualità quindi avere idea di quali sono gli archetipi dominanti di una persona ci dà appunto una caratterizzazione di quali sono i punti fondanti che mi posso aspettare quando ci sono i punti faccio questi si si allora quindi 1 e 8 abbiamo detto numeri leader numeri di carattere di forza di determinazione per esempio se li andiamo ad associare alla alla sua vita una persona che è andata anche controcorrente 1 e 8 non sono non si mettono a seguire il flusso hanno caratteri forti personalità importanti adesso spogliati quindi questa parte così poi però dobbiamo andare a vedere anche anche il resto delle altre cose e vorrei qua introdurmi prima di venire a vedere se ci sono delle domande un altro degli argomenti che avevamo in animo appunto di condividere oggi che è un accenno una introduzione a un sistema che ha messo a punto Austin Coatz che appunto vengono chiamate le griglie di Coatz ci serve perché noi possiamo andare a vedere al di là dei totali su cui noi faremo le nostre considerazioni qual è qual è quell'energia preponderante che troviamo nelle successioni dei numeri che costituiscono il nome e il cognome andiamoci per gradi il video seminario di Alessandra Pizzi numeri a destino è ora disponibile al link che si trova sotto al video nell'info box o nel nostro shopping online www.cavuresoterica.it alla voce video seminari